buongiorno ragazzi buona epifania a tutti e vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis con un semplice click e lì con un semplice click iscrivendoti al canale e attivando la campanellina la Juve non sa la Juve non sa che pesci prendere a livello di mercato sta dietro all'Inter ci stanno sembra quasi ci abbiano sorpassato per già ci vuole poco a sorpassare l'Inter perché sappiamo benissimo la nostra situazione economica qual è Buchanan è è un'operazione secondo me eh oltre oltre ad essere futuribile un'operazione ottima perché è comunque un ragazzo che ha delle qualità interessanti e che deve tirarne fuori altrettante quindi ci sta l'importo economico non è eh devastante il pagamento è buono è quello che interessa a noi quindi ottima operazione più che non lo devo riconoscere e anche se è un calciatore che non conosco bellissimo devo essere sincero ma Tiago Giallò lo conosco molto bene Tiago Giallò ragazzi lo conosco molto bene è un centrale difensivo è un centrale noi ricordiamoci che abbiamo solo un centrale e da trentasei anni centrale puro vecchia maniera che può essere spostato anche sulla destra visto la gamba la velocità la reattività l'esplosività che ha Tiago Giallò molto forte tecnicamente molto bravo sull'uomo molto molto bravo sull'uomo ed intelligente tattivamente per me io ripeto Tiago Giallò è un giocatore da non farsi scappare e spero fino all'ultimo che l'Inter riesca a fare qualcosa su questo giocatore vedi lo stesso Bremer quando lo hanno preso loro durava fatica il primo anno ma perché difendeva in maniera diversa dopo un anno Bremer in area si mette in tasca tantissimi attaccanti perché perché eh Bremer è sempre stato mio pupillo dico la verità perché ha imparato a difendere in area eh l'altra sera Lukaku se l'ha messo in tasca cioè marcava Lukaku e un altro da solo cioè sono giocatori importanti Tiago Giallò mi piace tanto lo seguo da tanto tempo per quello ne ne parlo da da una vita di Tiago Giallò mi dispiacerebbe vederlo proprio in quella maglia lì il Verona ragazzi il Verona è una squadra che sta svendendo tutti che ehm che è che non cioè non è una squadra rinunciataria spesso prova a giocarla ma in un momento di confusione ha un difensore che sta andando all'Atalanta che a me piace tantissimo lo svedese Yen che è una bestia un animale anche questo ragazzo lo stavo seguendo da più di un anno e parlavamo anche un Alessandro Gill l'anno scorso di questo Yen sembra sta andando all'Atalanta quello che secondo me poteva essere un giocatore da Inter Yen del Verona è un mostro secondo me il fortissimo però eh non 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 ci sono cioè non ci sono altre opzioni se non quella della vittoria soprattutto dopo diciamo il piccolo rallentamento che e che c'è stato con il Genoa vediamo se Gioanno Lautaro e Turam vediamo che se partano gli undici titolari occhio perché alla ripresa del campionato queste squadre qui possono dar noia nulla è scontato perché sulla carta non c'è storia ma alla ripresa del campionato succedono sempre cose strane quindi bisogna essere ultra concentrati ho sentito parlare del ciolito ragazzi il ciolito a me piacerebbe tantissimo come quarta punta cioè quarte punti come il ciolito secondo me in Italia non ci sono eh è la miglior quarta punta del campionato del della serie A ma come terza punta siamo sempre lì non va bene perché comunque non ha mai avuto un impatto quelle volte il partito titolare di livello ehm parte sempre bene nella prima parte della stagione nella seconda parte della stagione il ciolito scompare sempre quindi non è un giocatore impattante mi apisci stiamo parlando di un giocatorino e poi anche da punto fisico non è che possa garantire quella solidità spesso ha dei problemi quindi ciolito è una grande quarta punta ma siamo sempre lì ci manca la terza la quarta quarta punta lo può fare una uno tra Arnauto e Sanchez a noi manca la terza punta il ciolito lo vedo quarta punta poi saluto Andrea che mi ha scritto un bellissimo messaggio Andrea Darmiani se non eh un utente sono totalmente d'accordo con te Andrea l'Inter deve cambiare a mio avviso eh strategia deve credere un po' più di di giovani perché eh anche nella stessa Serie A ma non solo i Bundesliga i Premier League stanno trovando spazio i duemila tre addirittura qualche duemila cinque ah un'altra cosa sui fratelli Carboni io più di un anno fa feci un video su Franco e Valentin quando furono convocati dalla nazionale argentina quindi anche loro li seguo da tanto li conosco molto molto bene sia Franco l'esterno sinistro che Valentin che è un fenomeno uno di quei trequartisti che gioca ancora con la pianta sul piede uno di quelli che sgonfia la palla come si suol dire va bene Valentin Carboni ad oggi all'Inter servirebbe a poco perché ancora non ha un ruolo ben definito eh è un trequartista un centro a pista avanzato può fare la punta esterna ma non è un attaccante non sarebbe quello che serve a noi quindi fatelo giocare Valentin Carboni perché il Inter ci punta tanto ma ad oggi per per lui è utile giocare è utile eh calcare il campo e non è l'attaccante che manca a noi poi io l'ho sempre detto Valentin Carboni per me e l'ho detto l'anno scorso diventerà un fuori classe detto questo bisogna incominciare a credere un po' più sui giovani perché vedi gli stessi gobbacci fanno esordire duemila tre duemila cinque ma non perché bisogna guardare loro sto facendo un esempio che capito da da noi da noi ammuffiscano in under diciannove oppure i giovani spesso vengono usati come match di scambio per i giocatori bolliti o a fine carriera non mi fate fare i nomi per favore perché questa roba mi fa arrabbiare a me perché io credo tantissimo nei giovani quindi o vengono utilizzati per prendere vestito a trentenni spompati e usurati oppure cioè che scompaiono bisogna crederci un po' di più lo stesso Pissec che che non è un duemila tre e non è un duemila cinque è un duemila comunque si è ritrovato in campo e va riconosciuto che sta facendo bene anche se dal lato difensivo a sempre darmi anche di copre le spalle deve migliorare molto però ho fatto vedere delle ottime cose a livello di personalità io sto parlando di personalità del ragazzo fatto vedere tanta personalità e quello è importante per stare in una grande squadra in una grande squadra per giocare davanti a 80 mila persone quindi c'è qualcosa nella gestione dei giovani nell'inter che secondo me che non va bisogna migliorarla anche quella cosa lì perché sono loro il futuro non sono i 35 anni che prendi e che gli rinnovi il contratto fino a 40 anni bisogna rendere un po' più sui giovani c'è qualcosa nella gestione che dell'inter dei giovani che non va secondo me bisogna migliorarla e rischiare e io dico una cosa no ma se non rischi in una situazione economica del genere quando vuoi rischiare quando vuoi rischiare bisogna rischiare lo so che il salto tra la primavera e la prima squadra cioè veramente è una cosa molto molto difficile però l'inter secondo me deve credere un po' più sui giovani ciao grazie a tutti